Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Ospite nei nostri studi il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Buonasera Acerbo. Buonasera a tutti e a tutti. Allora Acerbo, reduce da una campagna elettorale che ha fatto in prima persona nelle regioni in cui si è votato la scorsa settimana e che hanno dato alla sinistra segnali confortanti per la vittoria della coalizione, dove eravate impegnati anche voi e soprattutto ha dato forse anche al Paese qualche segnale di inversione di tendenza sul momento che vive il governo Meloni Acerbo? Beh, mi sembra che sia positivo che sia arrivato uno stop alla prepotenza, all'arroganza di questa maggioranza e del governo, quindi una risposta positiva. Noi avevamo collocazioni diverse perché in Umbria per la prima volta dopo molti anni eravamo alleati con il centro-sinistra perché c'è una candidata presidente Stefania Proietti, una cattolica pacifista che noi abbiamo apprezzato perché ha sempre avuto una posizione contro la guerra, contro l'invio delle armi in Ucraina, per la pace in Palestina e quindi con cui siamo trovati in sintonia un ambientalista e anche e soprattutto un'amministratrice molto impegnata sul tema della difesa della sanità pubblica. Quindi abbiamo partecipato a una lista, abbiamo promosso, che si chiama L'Umbria per la sanità pubblica e la pace che dovrebbero essere poi due obiettivi della politica in Italia in questo momento. In Emilia Romagna abbiamo fatto una lista alternativa che ha sfiorato il 2%, ma anche lì ci è sembrata giusta la collocazione perché in quella regione con Bonaccini il Partito Democratico ha portato avanti politiche di stampo renziano, di cementificazione del territorio, di apertura ai privati nella sanità, di mancata lotta contro la precarizzazione del lavoro nei servizi pubblici con l'esternalizzazione in via di Scuten, continuando e quindi c'è bisogno di un'opposizione in quel caso di sinistra. Il segnale complessivo comunque è positivo perché questa destra sta portando avanti un attacco antidemocratico e anticostituzionale pericolosissimo e va assolutamente fronteggiata. Lei ha comunque, nel descrivere il profilo della neopresidente della regione Umbria, sostanzialmente già risposto a quella che sarebbe stata la mia seconda domanda, vale a dire le condizioni per la condivisione di una alleanza più generale con questo centrosinistra a guida Schlein. Guarda, noi siamo impegnati anche in un congresso in cui stiamo discutendo. Io propongo che ci sia una grande coalizione antifascista, ma per essere antifascista e per la Costituzione deve essere una coalizione per la pace. Noi non possiamo, non siamo politicanti, non possiamo allearci con chi vota per fare la guerra. Credo che tra l'altro il Partito Democratico debba scegliere se la sua agenda, l'agenda Draghi, l'agenda Ponti, l'agenda con cui è stata distrutta la sinistra in Italia e consegnata al partito degli eredi di Mussolini e Almirante la maggior parte del voto operaio e allora noi siamo altrove. Oppure se la piattaforma è quella dello sciopero generale della CGL. Allora, bisogna scegliere. La pace è sempre stata, vedi, il PD ha messo sulla tessera gli occhi di Berlinguer. A me fa piacere perché rispetto agli anni di Renzi è un omaggio a una storia importante in cui noi ci riconosciamo, ma Berlinguer diceva prima di tutto la pace. Io a 17 anni ero accomiso a prendere manganellate davanti alla base contro gli euromissili perché il partito di Enrico Berlinguer, di Piola Torre, si opponeva all'installazione dei missili della Nato. Negli ultimi vent'anni il PD e il centrosinistra sono diventati il polo della guerra, dell'aumento delle spese militari, dalla guerra di Jugoslavia fino alla guerra in Ucraina. Noi non possiamo essere complici di questa politica. Io spero che Illich Line abbia il coraggio di liberarsi di quelli che hanno consegnato, dico come argomenti a non eliminare fisicamente, però di fare una scelta di recuperare appunto le radici della sinistra italiana che sia nella sua componente socialista, sia nella sua componente comunista, è sempre stata una sinistra di pace. Ricordo il partito socialista italiano, quello di Matteotti. Matteotti era un pacifista. Durante la prima guerra mondiale fu il partito che si schierò contro la guerra. È una nostra costante ed è la nostra costruzione. Lo fece anche Bettino Craxi contro i missili americani. No, ma voglio ricordare una cosa sulla questione della Palestina anche qui. Noi scendiamo da un anno in piazza insieme alla comunità palestinese. E lo faremo il prossimo 30 novembre di nuovo a Roma con una manifestazione nazionale. Io ricordo che quando veniva Arafat, pur essendo Craxi e Berlinguer, uno al governo, l'altro all'opposizione, in scontro durissimo su tutto, quando arrivava Arafat, Berlinguer e Craxi, tutta la sinistra riceveva Arafat come nostro compagno. Adesso come si può essere così silenziosi sul genocidio che sta commettendo un fascista come Netanyahu? La parola del Papa è quella adeguata? Noi la usiamo da un anno. Io penso che il Papa abbia detto quello che si deve dire in corso del genocidio quando la maggioranza delle vittime dei bombardamenti israeliani sono donne, bambini e anziani, parliamo di genocidio. Quando Netanyahu cancella Vale Nazioni Unite e presenta una cartina, una mappa, in cui non c'è nessun territorio palestinese, parliamo di genocidio. Quello che si sta cercando di fare è di spingere i palestinesi fuori dai territori dove dal 1949 dovrebbe sorgere lo Stato di Palestina. Senta, la convince questa ricostruzione, questo stream informativo secondo cui adesso con l'arrivo di Trump sarà più vicino alla pace in vari punti e nei due principali scenari di conflitto nel mondo. E anche come commenta questa inattesa escalation da parte di un presidente che ha le ultime settimane di mandato negli Stati Uniti verso invece un escalation molto preoccupante? Quando c'era Berlinguer, cioè quando c'era una sinistra in Italia, noi non ci siamo mai identificati col Partito Democratico Americano e non abbiamo mai considerato la sinistra. Queste sono fesserie che si è inventato Veltroni e quelli che hanno distrutto il Partito Comunista Italiano. In America e negli Stati Uniti abbiamo due partiti che sostengono entrambi una politica imperialista e di guerra. Poi hanno strategie diverse. Trump vuole fare una guerra con la Cina e ancora più a favore con Netanyahu di una guerra con l'Iran ma nella sua strategia bisogna fare pace con Putin perché vorrebbe tirare Putin dalla parte dell'Occidente mentre i democratici americani, essendo democratici, vogliono fare la guerra con tutti contemporaneamente. Io credo che sia stata una sciagura in Europa l'identificazione dei socialisti europei e anche del PD col Partito Democratico Americano. E lo stanno seguendo, purtroppo lo hanno seguito negli anni scorsi anche con l'effetto del successo dell'ultradestra in Europa perché come ha detto Bernie Sanders che non è esattamente un democratico americano è un socialista. Bernie Sanders ha dichiarato il Partito Democratico ha abbandonato la classe lavoratrice e la classe lavoratrice ha abbandonato il Partito Democratico. Io credo che c'è bisogno che in Europa si recuperino le nostre radici quelle sulle basi delle quali abbiamo costruito nel dopoguerra, dopo la vittoria sul fascismo il modello sociale più avanzato del mondo per libertà e diritti sociali e diritti del lavoro. Da quando si sta smontando tutto questo ci stiamo americanizzando ci ritroviamo i camerati di Trump al governo dell'Italia e rischiamo che vadano al governo di tutta Europa anzi in molti paesi già ci sono andati. Io credo che sarebbe importante fermare immediatamente la guerra in Ucraina ma che non vorrei che in attesa di Trump arriviamo a una terza guerra mondiale la decisione da parte di Biden ma anche di Starmer e di Macron di autorizzare il bombardamento in territorio russo con armi occidentali che vengono dirette da satelliti e postazioni Nato perché lo sanno tutti e ci porta sull'orlo della guerra mondiale mi pare un atto irresponsabile e sarebbe una cosa molto positiva se l'opposizione in Italia trovasse la determinazione non di tenere Berlinguer sulla tessera ma di andare in Parlamento a chiedere di farla finita con la guerra e anche con l'aumento delle spese militari. Io sono molto contento che Landini ha posto al centro dello sciopero generale anche le questioni delle spese militari. è intollerabile noi lo diciamo abbiamo fatto anche la lista dell'europea pace, terra, dignità è assurdo che non abbiamo i soldi per la sanità e per i tanti problemi del paese e aumentiamo la spesa per comprare armi quando abbiamo una Costituzione che recita l'Italia ripudia la guerra. L'Italia e l'Europa devono tornare ad avere la politica che avevano fino ai primi anni 90 una politica di cooperazione di pace, di moderazione tra gli Stati Uniti che hanno la vocazione alla guerra e al dominio mondiale e le altre potenze questo è il ruolo dell'Italia invece noi ci siamo fatti bombardare i gasdotti dai nostri alleati paghiamo il gas sette volte di più abbiamo messo in crisi l'economia europea perché la politica non è in grado di dire no agli Stati Uniti io spero che almeno con Trump il Partito Democratico trovi la forza di dire no alla Casa Bianca Lei l'ha citato più volte Enrico Berlinguer credo che abbia visto il film sulla grande occasione che sta avendo grande successo partito da un tam tam in tutti i cinema anche nella nostra regione cosa ci insegna la ricostruzione non soltanto nostalgica di quel mondo e di quell'uomo sulla sinistra italiana? Io sono contrario a un'idea per cui la politica si concentra sui singoli Enrico Berlinguer era un prodotto di un fatto storico che in Italia esisteva una sinistra e un movimento operaio ed essendo quindi un popolo non di telespettatori ma un popolo di militanti di persone che ci rimettevano i soldi di tasca propria che passavano le ferie per fare la festa dell'unità che scioperavano quando c'era lo sciopero e l'Italia era il paese in cui si scioperava di più al mondo anche per questo si conquistavano tanti diritti dove c'erano milioni di persone politicizzate produceva dei dirigenti come Enrico Berlinguer o come Sandro Pertini o come tanti altri e credo che sia importante questo film mi pare fatto molto bene racconta solo la prima parte della segreteria di Enrico Berlinguer Berlinguer quella più anche criticata a mio parere anche giustamente rispetto al tentativo della solidarietà nazionale ma fu criticata anche da Berlinguer che poi cambiò linea e scelse una linea di rottura con la DC e anche col partito col centro-sinistra insomma però mi sembra un film davvero importante mi ha fatto piacere quando sono andato a vederlo la presenza anche di giovani in sala io non credo che sia un film nostalgico è che l'Italia ha perso il rapporto con la propria storia ed è un rapporto che va recuperato perché in quella storia ci sono le nostre radici e solo io penso una cosa che se una persona soffre di amnesia si perde per strada e questo vale anche per la sinistra se la sinistra viene privata di storia come è accaduto in questi anni diventa va in giro Brancola nel buio e si ritrova un Renzi a guidarla quindi benvenuto insomma io ringrazio che ha fatto il film ho anche invitato Elio Germano e Segre a venire a pescare a presentarlo spero che ci riusciamo anche per avere un'occasione di dibattito qui in Abruzzo sul film mi sembrerebbe una cosa molto importante mi sembra anche bello il racconto però abbiamo parlato molto da sinistra forse è il caso che parliamo di questa destra soltanto che abbiamo due minuti per cui io invece le volevo fare l'ultima domanda sulla sua città Pescara lei è un leader nazionale però voglio dire è un pescarese che vede e segue ciò che avviene e che avverrà soprattutto nascerà bene questa nuova città ma non lo so ho sentito dire che si vuole candidare da Alfonso a sindaco della nuova Pescara quindi mi sembra la sciagura da evitare spero che quelli che hanno berlinguer sulla tessera evitino questo scenario però io vorrei parlare della nostra regione mi sembra che sarebbe necessario fare un'opposizione più forte a questa giunta non le piace l'atteggiamento di Luciano D'Amico no no Luciano D'Amico mi sembra che che stia facendo un buon lavoro e abbia anche fatto una buona battaglia elettorale penso però che che ci sia bisogno di una più forte incisività sui temi della vita quotidiana delle persone a partire dalla sanità purtroppo ovviamente gli errori fatti del Partito Democratico quando andrà al governo danno alla destra la possibilità di dire sempre vabbè ma avete cominciato voi a tagliare la sanità noi continuiamo bisogna essere incisivi ma soprattutto bisogna ricordare una cosa che il presidente Marsilio ha taciuto in questi mesi rispetto al più grave attacco che abbia subito la nostra regione da quando esiste cioè l'autonomia differenziata con l'autonomia differenziata l'Abruzzo perderebbe ogni anno più di 2 miliardi di euro di trasferimenti dal governo nazionale una opposizione dovrebbe inchiodarlo a questo perché questo il silenzio del centrodestra e del presidente della regione guarda il presidente della Calabria che è di Forza Italia ha preso posizione contro l'autonomia differenziata Marsilio che ha vinto le elezioni sventolando il tricolore appoggia obbedendo a Meloni e Salvini questo provvedimento che noi cercheremo di cancellare con il referendum e che per ora è stato bloccato dal ricorso delle altre regioni alla Corte Costituzionale cioè io domanderei caro Marsilio ma perché l'Abruzzo che è una delle regioni più danneggiate dall'autonomia differenziata non ha fatto ricorso come ha fatto la Campania la Puglia la Sardegna l'Emilia-Romagna rispetto a questa vergogna e io credo che serva un salto ulteriore nella mobilitazione è certo perché questa destra fa molti danni soprattutto perché è completamente allineata al governo nazionale non difende gli interessi Abruzzo la vecchia democrazia cristiana andava a Roma ma rivendicava anche imparava tu sei della provincia Chieti noi comunistici opponemmo la sangrochimica Gaspari capì che la sangrochimica era un progetto sbagliato e chiese e Nacqua e la Seveld in cui il futuro parleremo però la prossima volta perché siamo tutti preoccupati a destra a sinistra per quello che sta accadendo e quindi occasione per rivederci presto spero buon sciopero generale il 29 senza sciopero non si difendono i diritti grazie Maurizio Cerbo grazie ai nostri telespettatori buona serata